Ehi, sono Raziel. La tua auto è pronta. Quando la vuoi, la trovi al porto. Ehi, sono Raziel. La tua auto è pronta. La tua auto è pronta. Un contatto che lavora nella sicurezza alle registrazioni delle telecamere della zona. Devi solo passare a ritirarle. Il nostro ragazzo vuole assicurarsi che io abbia affidato l'incarico a qualcuno che ci sa fare. Quindi dovrai prima metterti in mostra.